Rosa, rose, rose, ma com'è difficile il latino, chi mi aiuta a fare la lezione sulla prima declinazione? Io, 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 oggi merenda sui prati, io metto pane e ciliegie, avanti coraggio, avanti coraggio, chi mette il formaggio? Io, 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 c'è un film che mi piace, che cavalli, pittoleri e gli sceriffi, ma non posso, non posso venire, chi mi presta cento lire? Io, 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 chi trova un amico trova un tesoro, noi siamo la canzone, i più uniti nel mondo, la cosa più importante è non essere solo, trovare un'istante, uno che ti consigli, che ti porta la mano. Nei momenti belli e brutti di ciascuno, noi siamo tutti per uno, uno per tutti, tu possiedi mille cose le più preziose, ma io ti dico che sei più povero di me, che sei più povero di me, te lo possiedi un amico, chi trova un amico trova un tesoro, noi siamo i ragazzi più riti nel mondo, chi trova un amico trova un tesoro, noi siamo i ragazzi più riti nel mondo, chi trova un amico trova un tesoro, noi siamo i ragazzi più riti nel mondo, chi trova un amico... Grazie.